Non ha tradito le aspettative la prima del centenario andato in scena presso il teatro Marruccino nell'occasione colorato di nero verde per festeggiare il primo secolo di vita della Chieti Calcio. Una serata in cui sono stati ripercorsi cento anni di storia dall'origine dei colori fino alle due promozioni in C1. Numerosi gli ospiti della manifestazione organizzata dal presidente Stefano Marchionno ad impreziosire l'appuntamento l'arrivo in città della Coppa degli europei di calcio vinta dagli azzurri di Roberto Mancini l'undigi luglio scorso e con esso ovviamente non poteva mancare il presidente della federazione gioco calcio Gabriele Gravina. Ho rivisto con grande emozione i personaggi che ho conosciuto nella mia vita, esordito il numero uno della Federcalcio, un secolo di storie, cadute e successi. La nostra storia in serie B come Castel di Sangro è iniziata qui, Chieti merita un futuro gioioso. Ad aprire la serata un video di auguri da parte di tanti ex giocatori che hanno vestito negli anni la casacca teatina, tra i quali Fabio Grosso, ora allenatore del Frosinone e Alessandro Battisti, attuale direttore sportivo del Mantova. In sala invece erano presenti Fortunato Torrisi, Massimo Valà e Claudio Garzelli, direttore sportivo della gestione Mancaniello. Assente per motivi personali l'ex presidente Antonio Buccilli, con Gravina anche l'allenatore storico difensore Gigi Decagno. Entrambi sono stati accolti dal sindaco Diego Ferrara, dall'assessore allo sport Manuel Pantalone. Un momento importante per la storia della città, le parole del primo cittadino e dell'assessore. Siamo lieti che il primo degli appuntamenti a cura del comitato abbia ospiti di tanto e tale rilievo.